Oggi abbiamo provato la delibera che prende atto della donazione che i Cavalieri di Malta vogliono fare, la fondazione, e quindi ci avevano fatto questa richiesta per loro molto importante per poter proseguire. La regione ha risposto subito, nell'arco di 24 ore la delibera è stata approvata. Quindi questo riconoscimento, questa presa d'atto del loro compito è quello che gli serviva per poter accendere la macchina e partire. Per quanto riguarda invece il finanziamento e quindi quella chiamata che era stata fatta agli imprenditori? È già noto che una parte, un gruppo di imprenditori preferisce acquistare tecnologie e macchine, ma l'avevamo già dichiarato diverse volte, rispetto che la donazione finale sarà una sommatoria fra risorse economiche e donazioni, anche in termini materiali. E sappiamo già la percentuale di questi due comparti? Io credo che alla fine faremo 50-50. E sulla tempistica? I tempi che loro hanno piegato Milano, i 10 giorni, ma da quando hanno incominciato. Qui ancora abbiamo faticato a partire, speriamo di partire presto e poi saranno quei 10 giorni. La pressione dei contagi siamo solo felici, contenti e speriamo che continui così e comportiamoci bene. Non leggiamo la pressione come la riapertura delle spalancate alle porte per rompere il duro impegno di stare isolati. Quindi comunque si fa? Comunque si fa e comunque è utile.